Salve a tutti ragazzi, sono Chiara della Tana di Mr. X E con la sorpresa che vi dicevo che avremmo messo Ovvero gli extra costumes Ovvero sono i costumi che dopo aver finito il gioco la prima volta Potremo indossare entrando direttamente dalla camera di Alissa Con la chiave guardaroba Allora mi dite poi quali sono stati i boss che vi sono piaciuti di più I personaggi che vi sono piaciuti di più Allora, questo è il primo costume di base Ora prendiamo questo, così ve lo faccio vedere È un po' zè dai Ora ve lo faccio proprio vedere Molto zè Sembra più matura Alissa e così Ok Ora andiamo col prossimo Benissimo Ora prendiamo quello da Guarriera Molto 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 particolare Perché a me piace molto questo costume Ok È sempre un po' svestita ragazzi No? Ok Prendiamo quell'altro un po' casual Sì Oddio Sempre un po' svestita ragazzi Eh ma i costumi di una volta erano così Qua sono un po' country questo vestito E ora prendiamo l'ultimo Che l'abbiamo usato per battere il boss finale Ovvero quello da Ruders Che è molto carino Che molti lo usano Perché è davvero bello Svolazza Comunque qual è il costume che vi è piaciuto di più Anche così mi dite la vostra Spero che il video vi sia piaciuto Grazie per tutti i commenti che ci avete dato Le votazioni Saluto tutti i miei iscritti E spero che anche i ragazzi a cui abbiamo dedicato il gameplay Sia piaciuto il video E ci sentiremo alla prossima con altre sorprese Grazie a tutti ragazzi Io e MrX vi diamo un saluto E ci sentiamo alla prossima Ciao ciao